Buonasera, siete delusi. Cosa vi aspettavate? Uno alto biondo con gli occhi azzurri? Purtroppo il criterio bellezza nella selezione delle frecce tricolori non era stato ancora incluso. Quando sono arrivato io infatti mi sono sempre dovuto portare dietro il casco per dimostrare che ero io però poi alla fine quando la gente veniva a chiedermi la foto io mi mettevo in posa orgogliosa loro mi dicevano ma non con te col casco quindi ero invidioso. Detto questo avevo giurato che non avrei usato questo inizio ma mi piaceva troppo per cui ho iniziato così anche questa sera e pensavate fossi una persona seria vero? Vi svelerò un segreto. So anche essere serio e la prima cosa che voglio fare è ringraziarvi ringraziare l'organizzazione ringraziare il comune di Fermo ringraziare tutti voi che la sera della partita dell'Italia avete deciso di venire ad ascoltare noi. Dovete sapere che questo è il mio quarto TED tra l'Italia e l'estero eppure io sono sempre emozionato e sapete perché accetto sempre di venire? Perché imparo. Io ascolto gli altri e imparo. Ho imparato dai primi speaker imparerò da quelli che vengono quindi questa è sempre un'occasione di grande grande crescita. Comunque detto questo ma quanto è bello essere tutti qui dal vivo poterci guardare poterci sorridere poterci dire ciao poterci dire grazie poterci dire scusa poterci con le dovute precauzioni dare le mani o addirittura abbracciarci. Quanto è bello questo aspetto umano. Per questo oggi ho deciso che l'idea che volevo portarvi è relativa ai valori che esistono anche nei mondi ad alte prestazioni esistono nel business secondo me. Io sono una persona estremamente pragmatica credetemi la mia vita è questo e ve la racconto in breve però sempre agito secondo i miei valori e in determinate situazioni in determinati team i valori sono la cosa più importante perché è chiaro che per avere successo bisogna essere competenti bisogna essere bravi oppure avere talento ma quello che fa la differenza è il modo in cui ci comportiamo e oggi noi abbiamo una grande opportunità di recuperare molti di questi aspetti umani da solidarietà all'altruismo il chiedersi scusa il dirsi ti voglio bene perché funzionano anche in quei mondi dove magari si può pensare che si possa andare avanti solo con la forza l'arroganza essendo sempre forti però perché sbagliamo certe volte interpretare la parola valori comunque io sono un sognatore uno che ha sempre immaginato quello che voleva fare e coerentemente coi valori che mi sono stati dati in primis dalla mia famiglia sono andato avanti non sono mai neanche stato rallentato anzi qualche volta ho vinto delle battaglie proprio con quella che io chiamo l'estrema educazione volevo fare pilota sono diventato un pilota sono entrato alle frecce tricolori sono stato tantissimi anni lì ho volato come gregario leader il leader è la punta delle frecce l'avete vista io ho volato un sacco di valdoro questa terra ho volato un sacco di volte davanti qua affermo era una delle missioni più che amavamo di più perché noi nelle marche ci siamo sempre divertiti un sacco comunque leader gestisce il volo dagli ordini è la voce che avete sentito le frecce tricolori sono la pattuglia acrobatica più numerosa del mondo dieci velivoli che volano a due metri circa l'uno dall'altro molto veloci 600 650 chilometri orari un sacco di g e molto bassi poi sono diventato il comandante il comandante delle frecce ahimè non è più pilota esce dalla formazione non gioca la partita la domenica ma è l'amministratore delegato dell'azienda frecce tricolori che è un'azienda completa c'è tutto dal magazzino i soldi il comandante delle frecce al potere di spesa ed è datore di lavoro è il responsabile per il raggiungimento della missione che è quello di supportare il sistema paese all'estero quindi spesso dietro le missioni all'estero delle frecce tricolori in realtà ci sono motivi o politici diplomatici o di supporto al sistema paese e io ho affrontato personaggi come Gheddafi in una famosa missione che fu un caso internazionale nel 2009 quando le frecce vennero mandate in libia e l'ho affrontato secondo i miei valori difendendo la nostra bandiera perché lui non voleva che noi usassimo i fumi tricolori ma solo il fumo verde che era il colore della sua bandiera quindi con la coerenza ma il rispetto e l'educazione anche in una situazione del genere ho portato a casa il risultato poi lasciate le frecce ho avuto una fortuna enorme sono andato a lavorare per una delle aziende più famose del mondo più importanti ho lavorato in formula 1 per due anni e ho lavorato nella direzione risorse umane dove mi sono occupato di un argomento che si chiama cultura aziendale che non è altro che il comportamento è la materia che si occupa del comportamento delle persone nelle aziende e quindi nelle squadre e indovenate cosa c'è alla base di questa materia i valori i comportamenti ho fatto un progetto straordinario sono stato il responsabile di riscrivere la vision la mission e i valori di questa azienda poi sono diventato il gestore della funzione aziendale che si occupa di gestire scusate i rischi dell'azienda in un'epoca in cui il rischio più grande che possiamo correre è non correre alcun rischio perché si sono accorciati i cicli di vita di prodotto si sono accorciati i cicli di vita delle competenze stare fermi è la cosa più pericolosa che possiamo fare oggi nel business e nella vita poi ho deciso di lasciare ferrari ho messo su una mia piccola azienda di consulenza ora sono amministratore delegato di un'azienda del settore aerospazio difesa e sono nel consiglio di amministrazione di un'importantissima società di assicurazioni e sono persino entrato nel corpo docente di uno dei master più importanti del mondo che è erogato da tre università straniere e rispetto una delle regole più importanti lavoro a new york ok quindi non sono proprio la persona al quale voi magari abbinereste la predica relativa a valori educazione rispetto e invece io sono quella persona lì e tutto quello che avete visto in mondi diversi con competenze diverse mondi estremamente competitivi perché stiamo parlando tutti di mondi numeri uno dove tutti pensano di essere il numero uno io ho combattuto tutte le mie battaglie basandomi su questi valori i primi me li ha dati mio papà quindi io sono partito da lì sono stato fortunato e mio papà diceva dovrai sempre lavorare duro guarda caso le cose difficili bisogna lavorare non ti arrivano addosso dovrai essere leale verso chi si fida di te e in poche parole ti paga lo stipendio e dovrai essere onesto più un altro valore che mi tengo per ultimo perché secondo me è il più importante ma i valori di cui voglio parlarvi oggi sono principalmente due il primo è il rispetto parolone dobbiamo rispettarci non ci rispettiamo una volta c'era più rispetto attenzione però perché io non rispetto una persona perché si veste come me o fa il tifo per la stessa squadra di calcio potremmo commettere un gravissimo errore io rispetto una persona per il suo comportamento perché è capace di capire dove finisce la sua libertà e dove inizia la mia per cui non mi mette la macchina lì così io non posso andare a lavorare rispetto vuol dire che io sono capace ad esprimere la mia opinione in maniera rispettosa ma soprattutto sono capace di ascoltare un'opinione diversa dalla mia in maniera rispettosa e sapete cosa ho imparato io cambiando tantissimi lavori nettamente diversi che il lavoro degli altri è facile solo fino a quando non tocca a te farlo quindi rispetto per chi oggi ha montato preparato perché io non so fare quel lavoro io ogni volta che ho messo le mani nel lavoro di qualcun altro ho capito quanto fosse difficile rispetto è una parola importantissima che dobbiamo sempre ricordare essere rispettosi non vuol dire essere deboli il rispetto è molto legato secondo me a un'altra parola importantissima la parola educazione essere educati non vuol dire essere deboli sapete come ho affrontato tutte le per tutte le volte che mi sono trovato di fronte un arrogante prepotente anche in ambiente lavorativo quelli che tentano di sovrastarti che parlano senza fermarsi sapete cosa facevo io? cosa ti insegnano agli elementari? io facevo così più basso eh scusate se no alzo la mano e sto zitto e lo guardo negli occhi però lo guardo dritto negli occhi tendenzialmente rimangono un po' oddio cosa fa questo? e io rispondo aspetto che tu abbia finito ti sia sfogato poi parlo io io ho sempre combattuto con queste armi e tendenzialmente dopo aver stupito ho anche avuto la parola e ho detto la mia ma questo non vuol dire essere deboli anzi vuol dire avere pazienza forza fiducia e soprattutto farsi rispettare perché rispetto non è solo verso gli altri bisogna anche che sappiamo farci rispettare secondo valore fiducia anche questa è un parolone ah non mi fido no non mi fido di quella persona poi gli chiedi perché non ti fidi non lo conosce neanche ha i capelli fucsia e quindi non gli piace ma anche qui io non mi fido di una persona perché fa il tifo per la stessa squadra di caccio ama la stessa tipo di pizza o lo stesso tipo di film la fiducia non è questo la fiducia non è vestirsi nello stesso modo soprattutto sapete che cosa non è la fiducia che cosa non è la fiducia la fiducia non è pensarla sempre nello stesso modo anzi se avete un amico che vi dice che avete sempre ragione fatevi una domanda in ambito lavorativo se un collaboratore ti dice che hai sempre ragione hai un problema perché invece il valore è la diversità di pensiero è sposta con rispetto io ho una regola meno male che siamo tutti diversi perché persone diverse guardano lo stesso problema da punti di vista diversi quindi riescono a estrapolare tutti gli elementi che per esempio un capo deve prendere in considerazione per prendere la decisione migliore se io avessi problemi con le ragazze non riesco a trovarmi una ragazza vado al bar bevo con i miei amici e piango le donne non mi capiscono è molto facile rispondere forse sarebbe la risposta più comune hai ragione le donne non ti capiscono e ti lasciano da solo tutta la vita l'amico vero leale rispettoso ti dice Massimo permetti forse ti ferirò io devo dirti la verità perché ti voglio bene hai mai pensato che se ti facessi la doccia tutti i giorni potresti avere qualche possibilità in più questo è l'amico vero nel mondo del lavoro questo è il collaboratore vero leale franco ma rispettoso della persona e dei ruoli la fiducia è un'altra cosa la fiducia è competenza empatia sicuramente è affidabilità quindi anche l'integrità soprattutto la fiducia è inversamente proporzionale è una cosa bruttissima che si chiama egoismo dove essere altruisti invece non vuol dire che vi do il mio portafoglio vuol dire che condivido vuol dire che insegno vuol dire che non penso solo ai miei risultati vuol dire che non proietto i risultati di un'azienda sul trimestre solamente perché è importante per carità per la mia parte variabile di compenso ma penso anche a obiettivi a lungo termine penso alla sostenibilità della mia squadra questo per esempio è altruismo e poi c'è l'ultima parola magica la parola che secondo me rappresenta le fondazioni dei valori è la parola umiltà umiltà non vuol dire non essere ambiziosi ed è anche un po' diversa dall'essere modesto non vuol dire essere uno zerbino che accetta tutto vuol solo dire che io conosco e sono conscio di avere dei punti di forza e delle competenze ma ho anche dei punti di debolezza e delle aree di lacuna in cui non sono preparato vuol dire che quindi so che per fare un grande team devo avere dei collaboratori importanti vuol dire che se posso cerco anche di sceglierli migliori di me perché se mi rispettano e mi faccio rispettare mi daranno un contributo importantissimo alle mie decisioni vuol dire che sono aperto di mente vuol dire che per esempio non darò mai per scontato che il successo che ho avuto finora come azienda possa durare per sempre senza fare nulla tutto quello che vi ho detto ha un collante che si chiama comunicazione come ci parliamo? beh vi svelo un segreto io quando parlo mi capisco benissimo non è altrettanto vero o scontato che sia stato così bravo stasera da passare tutti i messaggi la comunicazione è un gesto di grande umiltà che richiede impegno non possiamo mai dare per scontato che quello che diciamo sia capito interpretato come vogliamo noi e la domanda non è mai hai capito ma la domanda è mi sono espresso bene infine vi ho detto che sono un sognatore anche i nostri sogni devono essere coerenti ai valori perché spesso oggi i nostri sogni i sogni delle persone sono effimeri sono pilotati guidati da quello che dice il nostro mondo mentre io il mio amico Andrea amici di infanzia quando eravamo giovani e io ero già uno che io spaccherò io farò io diventerò e lui mi diceva ma perché e io dice ma come tu non hai ambizioni e lui mi dice certo che ho ambizioni io ho queste ambizioni una bella moglie una bella figlia una casa di proprietà un lavoro da lunedì al venerdì a un chilometro da casa e la domenica voglio guardarmi la partita Andrea è riuscito in tutto questo ha ottenuto tutti questi risultati ha una bella moglie posso testimoniare io ho una bella figlia lo posso testimoniare io ha una bella casa lavora da lunedì al venerdì a un chilometro e mezzo da casa e a Sky quindi chi è l'eccellente tra me e lui il mio amico è un eccellente e non si è fatto fregare dall'amico ambizioso aveva le idee chiare coerente ha raggiunto i suoi obiettivi perché poi alla fine tu puoi essere anche il comandante delle frecce ma se non hai un affetto e un amico sei uno strr qualunque grazie a tutti Grazie a tutti.